Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti, tra pochissimo approfondiamo una storia, una notizia social insieme, prima ripercorriamo quali sono le notizie che hanno dominato il dibattito sul web questa settimana. Partiamo da qui, la solidarietà digital per Ingrid Scamiglia, una donna ammazzata drammaticamente dal proprio compagno, un caso di femminicidio che era assolutamente all'oscuro, nessuno conosceva questa storia, grazie ai social abbiamo scoperto questa storia, tantissima la solidarietà giustamente nel mondo. Poi, in piazza e sui social per Patrick Zaki, un appello unanime, liberatelo, liberate Patrick Zaki, free Patrick Zaki, l'hashtag più utilizzato per il ricercatore egiziano, però anche in Università di Bologna. Quattro anni fa moriva Umberto Eco, il ricordo sui social che lui non amava, e sì perché ce lo ricordiamo tutti, le parole di Umberto Eco contro i social, ma in ogni caso sul web viene ricordato. Poi il coronavirus, con la nave da crociera, ma non solo il racconto social di questo allarme coronavirus in tutto il mondo, e poi un altro virus, un altro virus, di cosa stiamo parlando? Questa notizia, Germania, strage ad Anau, testimonianze, solidarietà e propaganda social, perché oltre al virus del coronavirus, oggi è Timeline, parliamo di un altro virus, il virus della xenofobia e del razzismo, lo facciamo in compagnia di Andrea Margelletti, presidente del Centro Suri Internazionali. Ben arrivato a Timeline. Grazie, buongiorno e grazie per l'ospitalità. No, anzi, prego, bentornato, anzi, bentornato a Timeline. Sempre una gioia tornare a casa in qualche misura. Sono contento. Allora, partiamo da, come ho detto, questo virus, perché poi qui a Timeline, in questi mesi, in questa settimana, abbiamo raccontato tanto il coronavirus, ma oggi parliamo purtroppo di un altro virus, Andrea, ovvero il virus della xenofobia e del razzismo. Partiamo con i video virali, i video più condivisi di questa strage, 11 morti. Ecco il video. Più condivisi. Più condivisi. Mamma, quando ne sono? Quando quando ne sono? Non mi vedono. Mamma, sono assai. Con i cani. E questi erano i video di quei locali molto frequentati dalla comunità kurda, presi appunto di mira dal killer. 11 morti totali, incorposi il killer e la madre. Cosa è successo, Andrea? Ci fai un quadro della situazione? Noi dobbiamo fare però due precisazioni che sono fondamentali soprattutto per chi come te domina i social e ne comprende le dinamiche. Non esiste un terrorismo cattivo e un terrorismo difensivo. Non c'è un terrorismo che vuole cambiare il nostro modo di vivere al quale si contrappone un terrorismo in qualche maniera giustificabile o di risposta. Il terrorismo vuole il terrore a qualunque latitudine e longitudine e non è mai e non può essere mai visto in una chiave di sì però loro hanno fatto questo, qualcuno può essere stato portato a... Non è mai giustificabile. Non è mai giustificabile. Perché quando tu vai per strada, entri in un locale... E infatti per capire bene la dinamica, ce la racconti, un uomo ha preso di mira dei bar molto frequentati da comunità kurde. Da stranieri. Ma siamo tutti stranieri in una qualche maniera. Mia madre è piemontese, mio padre era pugliese, io sono nato a Genova e mi considero genovese ma vivo a Roma. Dov'è il romano doc da diecimila anni? Dov'è l'italiano che non abbia all'interno del suo DNA un passaggio di qualche barbaro? Siamo tutti stranieri. Ti mostro questo tweet. Vediamo il... Stephen Seiber della sede U che ha tweetato le parole della Merkel. La Merkel ha detto che il razzismo è veleno. Tantissima l'indegnazione sui social. È inaccettabile questo odio. Non ho parole. Tantissima l'indegnazione degli utenti. Perché hanno paura i politici? Perché esiste all'interno del mondo dell'estrema destra, che è un mondo che lavora moltissimo in maniera sotterranea sui social, ma moltissimo. Certo. Esiste un fil rouge dicendo noi in realtà non siamo compresi ma siamo quelli che stiamo difendendo un modello di vita occidentale o cristiano. Tant'è che Killev ha lasciato uno scritto in cui lui aveva detto che volevano eliminare tutte quelle persone che riteneva stranieri in Germania, che non si potevano più eliminare. Perfetto. Sono stranieri. Ma anche gli italiani sono stranieri in Germania. Anche i tedeschi sono stranieri in Italia. Perché da qualche parte si inizia, si inizia con quello che è straniero, si inizia con quello che ha un colore diverso dal tuo, che ha una religione diversa dal tuo, che ha un orientamento sessuale diverso dal tuo, che ha un'abilità fisica diversa dalla tua. E non c'è limite al livello di diversità, perché poi c'è il tifoso, c'è quello che gli piace un colore piuttosto di altro. E' un gioco al massacro che non può che essere fermato. E su questo grande responsabilità però hanno anche molte realtà politiche in Occidente, dove invece che costruire vogliono consenso e la creazione del nemico è una delle più semplici realtà per ottenere consenso. Perché de-responsabilizza. Non è mai colpa tua se non fai. È colpa di qualcun altro. Vorrei allargare lo sguardo mostrandoti questo. Alcune delle ultime stragi che si sono verificate di, possiamo dire, suprematismo bianco. Vediamo Macerata, Crash Church, San Diego, Halle. C'è chi proprio addirittura fa proprio un elenco in un tweet con le date. Vediamo Firenze, Macerata, Crash Church, El Paso, Halle, Halle a ottobre scorso, Hanau. Insomma, suprematismo bianco. Sono in aumento i casi di stragi di suprematismo bianco, xenofobe, razziste? Perché questo è stato confermato anche dal ministro dell'interno bavarese. Era xenofobo, era razzista questo chile. Perché c'è questo aumento, Andrea? Perché la posizione di molte realtà politiche in Occidente sullo spingere l'acceleratore, sul dividere invece che unire, fa sì che all'interno di un determinato mondo che c'è sempre stato, ma era estremamente nascosto, adesso qualcuno si sente in una qualche maniera legittimato, non dal punto di vista politico, che ovviamente qualunque politico critica e giustamente non può che essere contrario a un avvenimento, a un fatto di sangue, ma legittimato a dire, io mi sono nascosto, mi sono dovuto vergognare per 50 anni di quello che sono, adesso posso, perché in realtà io sono il difensore di un mondo che è in pericolo, una sorta di partigiano razziale. Anche perché ricordiamo che l'AFDA, che è il partito quello di estrema destra, in assia alle ultime elezioni politiche ha avuto un buon risultato, quindi insomma anche questo è un elemento da considerare. Ma questo è naturale quando tu hai una politica che invece di occuparsi delle fondamenta, cioè di quello che noi dobbiamo essere, di quello che soprattutto noi dobbiamo diventare, pone il problema sulla costruzione della casa. Ma una casa senza fondamenta, al primo refolo di vento, vola via. Però tanto tu appari come quello che la casa l'ha costruito. È molto pericoloso, tutti i terrorismi sono pericolosi. Questo è particolarmente pericoloso perché, a differenza di un altro tipo di terrorismo, quella matrice radicale religiosa, in qualche fascia, tra virgolette, anche moderata, della popolazione trova, certamente non un apprezzamento, certamente non un supporto, ma un vago sentore di giustificazione. Ecco, proprio per questo, per inquadrare bene questo caso, ti leggo questo tweet, che è una domanda che si fanno molti sui social. Questo killer di Hano, era un lupo solitario o fa parte di una rete? Tant'è che lo scriviamo anche noi nel nostro titolo di oggi, l'odio fa rete anche sui social. Era un lupo solitario, Andrea, visto che si parla spesso, non si usa spesso questa definizione, o c'è una rete? Esiste naturalmente una rete, ma anche quelli che nel nome malsano del pensiero di Allah, che così non è, ma vanno ad accoltellare o con le macchine a mettere sotto delle persone, sono spessissimo lupi solitari. Il problema non è il singolo, il problema è che il singolo si innesta in una rete, dove non c'è più, come negli anni 70-80, quello che ti chiami, vai, prendi e fai, ma ti senti parte di un progetto politico o di un progetto religioso e ti senti legittimato ad agire in nome di compagni e di milioni di persone che ti stanno chiedendo di fare quello. In realtà non glielo chiede nessuno, ma la giustificazione per loro morale è lo faccio in nome di qualcosa di più grande, perché se loro dovessero guardare la realtà scoprirebbero che il re è nudo e che loro sono soltanto dei vili assassini. Chiarissimo, chiarissimo. In tutto questo, il web, che ruolo gioca, ti mostro un po' di casi. Lui aveva lasciato un video messaggio su YouTube, insomma, voglio mostrare il meno possibile altre stragi, per esempio, quello di Halle, l'attentatore Halle, ottobre scorso, sparò in diretta social, addirittura mise a segno i suoi colpi in diretta social, un altro social network, Twitch, la strage di Crash Church in Nuova Zelanda, anche lì, insomma, venne mandato in diretta Facebook addirittura, la strage di Suprematista Bianco, di questo Suprematista Bianco in Nuova Zelanda in diretta Facebook, con i social e il web, in tutto questo, che ruolo gioca? Determinante. Senza il social non esisti. Non esisti. Dato che tu lo fai, non per un fatto personale, ma in nome di una più alta idea, ripeto, completamente distorta, hai bisogno che gli altri vedano quello che stai facendo per fare a loro, per inserire nelle loro coscienze, a loro volta la possibilità di dire io l'ho fatto adesso, ti sto passando il testimone. I social, i video, i tweet sono di fatto il testimone che l'assassino passa a qualcun altro per dire adesso tocca a te, io ho fatto la mia parte. È una chiamata in correità. E senza i social loro non sono nulla. La notizia è valida, lo dico a un giornalista capace, la notizia è importante se è conosciuta, se è condivisa, se si spettacolarizza. Interessante, questo è davvero interessante. Voglio chiudere con te con questo, con la solidarietà. Questo è l'hashtag più utilizzato, preghiamo per Hanau, tantissimi tweet in tutte le lingue del mondo e voglio chiudere solo con un'immagine. Questa, che è la più virale in questo momento, questa catena umana davanti alla porta di Brandeburgo l'altra sera, in solidarietà, insomma, è bello vedere che i social cercano di unire quel mondo che qualcuno vuole dividere, no? I social possono creare unità. Grazie allora Andrea Margeletti, presidente del Centro Studi Internazionali, per questa fotografia che ci hai fatto davvero molto importante. ci vediamo sabato prossimo, grazie a tutti.